Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il format che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Subito i titoli di questa puntata. Vaccino anti-covid arrivate in Toscana le dosi AstraZeneca, discarica Podere Rota, mozione di Fratelli d'Italia, nuove norme per l'edilizia sismica, finanziamenti per i piccoli comuni, mozione a sostegno del recupero del fienile della vita e bella a Castiglion-Fibocchi. Ho impostato un piano vaccinale molto stringente che pone la Toscana fra le regioni che in modo più efficiente ed attivo si stanno adoperando per la somministrazione di vaccini. Il vaccino AstraZeneca sarà quello che immediatamente, appena io vedo le dosi, noi metteremo in prenotazione. Naturalmente le categorie che ci vengono indicate da Roma sono quelle degli insegnanti sotto i 55 anni, delle forze dell'ordine, dei servizi pubblici. Comunque gli insegnanti non lasciano adito a nessun tipo di interpretazione diversa, quindi sono quelli che raccoglieremo subito insieme alle forze dell'ordine per quanto riguarda la campagna di vaccinazione. In questo momento quindi la Toscana sta sviluppando tre linee di vaccinazione. Con Pfizer e Moderna la vaccinazione è in corso per quanto riguarda il personale sanitario e gli anziani dell'RSA e siamo arrivati a circa 160.000 dosi somministrate. La seconda linea sarà quella che attraverso i medici di famiglia ci vedrà da sabato, San Valentino, somministrare attraverso gli ambulatori e la decisiva collaborazione con i medici di famiglia dei farmacisti, quelle che sono ulteriori dosi di vaccini Pfizer e Moderna e la terza linea di vaccinazione è quella che potremo attivare per gli insegnanti e le altre categorie previste. Quando arrivano i vaccini sono sempre grandi opportunità, lo sono a vantaggio delle persone che hanno più di 80 anni e ringraziamo fin d'ora i medici di famiglia per l'operazione che faranno, lo sono per tutte le persone che hanno bisogno di essere vaccinati, soprattutto per le categorie che sono più esposte. A me ha fatto molto piacere vedere che siano gli insegnanti, per esempio una di quelle categorie che prima di altre verrà vaccinata e come questo ogni altra forza, tutte le forze dell'ordine, tutte le persone che sono esposte sia del sistema sanitario che del socio sanitario e tante altre persone che beneficeranno dei vaccini. Non ci dimentichiamo che la pandemia è iniziata un anno fa e prima di un anno sono arrivati i vaccini, è un evento straordinario, quindi non stiamo lì a guardare se una settimana prima o una settimana dopo è un evento che era imprevedibile per quanto riguarda la dinamica della scienza, quindi portiamo rispetto a chi dovrà organizzare la campagna di vaccinazione, augurandosi ovviamente che possa essere fatta in maniera più celere possibile. Mi pare l'unica scelta che è quella che sta facendo la Giunta è quella di destinare i vaccini che si possono usare per gli ulti 80 anni per quella fascia di popolazione e quindi destinare fin da subito il più possibile Pfizer e Moderna alla popolazione anziana. Questo ovviamente è chiaro, ritarderà i tempi che ci eravamo immaginati nella vaccinazione degli ulti 80 anni, però siamo fiduciosi del fatto che una volta chiuse le vaccinazioni sanitarie si possa incrementare in maniera veloce e poi abbiamo visto che da una settimana all'altra cambiano le notizie, anche le quantità e sappiamo che ci sono anche altri vaccini che sono in procinto di arrivare, quindi diciamo intanto concentriamoci perché tutte le dosi che arrivano siano impiegate in maniera ottimale per i cittadini più critici e su questo poi ovviamente il dato di AstraZeneca noi speriamo anche che nelle prossime settimane possa essere superato perché sappiamo che per ora c'è una carenza di indagine, non un'indagine che dice che non si può usare sugli ultra 55 anni e speriamo che anche questo sia colmato nelle prossime settimane. Guardi, noi oggi abbiamo presentato come gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale ben cinque interrogazioni sul piano vaccinale. Non siamo assolutamente contenti della risposta, lo abbiamo detto in maniera molto chiara in aula, perché ci sono ancora tantissime lacune sul piano vaccinale. La prima è che i vaccini sono troppo pochi per le esigenze dell'Italia e in particolare della nostra regione. La seconda è che c'è tantissima confusione su chi si potrà vaccinare, perché si possono vaccinare le forze dell'ordine e i servizi essenziali. Quali sono i servizi essenziali? I servizi essenziali sono i guidatori per esempio del trasporto pubblico, punto interrogativo. Ancora le linee guida non ci sono e poi esiste una fascia che è una fascia assolutamente scoperta perché il vaccino si fa fino ai 55 anni e poi che cosa succede? Quindi c'è una fascia che è assolutamente scoperta, le dosi sono troppo poche, i centri non si sa ancora quali sono, i medici di base dovranno chiamare gli ultraottantenni, ma ci domandiamo come faranno a chiamarli, dove si vaccineranno gli ultraottantenni? Cioè gli interrogativi sono ancora troppi, le speranze sono ancora disattese e gli italiani e i toscani che aspettano un vaccino sono ancora esageratamente troppi per dare una risposta efficace all'emergenza sanitaria e soprattutto perché se non vacciniamo in maniera veloce e rapida gli italiani non si potrà contrastare e dare una risposta seria alla crisi economica che in questo momento ci preoccupa tantissimo. Io insisto che questo piano vaccinale così come è stato declinato dalla regione toscana ha molta confusione in sé, ci sono stati dei problemi in diverse province e non soltanto legati alla fornitura della Pfizer che è stata rallentata, pure anche lì poteva essere trovato un sistema, un rimedio e producendo l'improprio grazie all'articolo 31 come la mozione che avevamo presentato ma di fatto nessuno ha voluto discuterla. La verità è che adesso continuiamo ad andare abbastanza alla cieca con molto disordine e non vedo questa giunta attenta e soprattutto non la vedo in grado di risolvere i problemi. Ci sono sicuramente delle persone che hanno necessità in questo momento di essere urgentemente vaccinate ma non le vedo mettere nell'ordine delle priorità e ci sono anche molte segnalazioni preoccupanti riguardo l'utilizzo dei vaccini. Pensiamo a quelli che hanno ricevuto la dose e delle dosi che dovranno essere per sei persone, sei vaccini e invece sono diventate sette. Qui ci sono delle domande importanti da fare non solo alla giunta ma anche a tutto il sistema sanitario che lo sta organizzando? Io credo che sarà un po' ottimistica pensare che prossima settimana si inizia la seconda fase perché ci abbiamo ancora da finire la prima. Noi i dentisti per entrare nello specifico mio da oggi iniziano a poter prenotare per cui io stesso sarò la prossima settimana, anzi la settimana ancora dopo, quindi credo che non ce la faremo. La tempistica secondo me è del tutto falsata perché fino a che non ci saranno i medici di famiglia che potranno incominciare a vaccinare credo che i tempi saranno ridotti e i numeri saranno quelli che sono, cioè minimi. Non solo ma c'è anche un certo pressappochismo nella idea di come procedere nella vaccinazione perché i medici di famiglia mi hanno appena detto non più tardi di ieri che non sanno come procedere e addirittura sembrerebbe che i vaccini a loro destinati per la vaccinazione degli over 80 siano della Pfizer, quindi i più difficili da maneggiare poiché hanno ovviamente la necessità di stare a meno 80. Credo che quindi i tempi si allungheranno, è ottimistico pensare a una seconda fase di inizio della prossima settimana, credo che l'importante sia ancora mantenere un assoluto distanziamento, il gel, la mascherina e sperare e sperare che si possa quanto prima ottemperare a quanto tutti auspichiamo. Naturalmente tutto finalizzato all'immunità di Greggio. Abbiamo oggi approvato una legge che di fatto ricependo delle osservazioni che c'erano state fatte dalla Corte Costituzionale e dà la possibilità ai comuni a questo punto di adeguare tutte le richieste di autorizzazione che erano state fatte dai cittadini che erano rimaste bloccate a causa apposta della inapplicabilità della legge 65. Questo è molto importante perché sono molti comuni in Toscana che sono in zona sismica, sono molti gli interventi che i privati, i cittadini avevano richiesto per l'adeguamento anche approfittando dei bonus che ci sono nel 110, insomma quelli legati all'energia piuttosto che l'adeguamento degli edifici. Quindi abbiamo velocemente, la sentenza è di metà gennaio, ci siamo preoccupati di adeguare quanto prima la nostra legge in modo che i comuni possano a questo punto rilasciare i permessi di autorizzazione a modificare o costruire. La scorsa legislatura aveva messo una particolare attenzione nei confronti dei piccoli comuni che poi insistono quasi sempre nelle nostre aree interne, nelle nostre aree montane, quindi quelle più disagiate. Erano stati innumerevoli i provvedimenti come quelli per asfaltare le strade e comunque per la manutenzione dei comuni sotto 5.000 abitanti, quelli di progetti di rigenerazione riservati alle aree interne. E poi c'era questa misura, una misura triennale dell'assegnazione di 20 milioni ai comuni sotto 5.000 abitanti per investimenti da decidere in libertà spalmati nel triennio. Sono stati assegnati i primi 7 milioni, dando anche una proroga per il loro utilizzo giustamente dall'attuale giunta perché il Covid ha rallentato un po' le operazioni e sono poi stati confermati gli altri 13 milioni per quanto riguarda gli anni 2021 e 2022. Quindi credo che sia da sottolineare il fatto che ci sia da questo punto di vista una continuità negli interventi a favore dei piccoli comuni e questo si coniuga anche con un'attenzione importante da parte del Consiglio che proprio nella seduta scorsa ha istituito anche una commissione speciale, quella relativa alle aree interne, perché riteniamo che su questi territori, sui piccoli comuni, bisogna sviluppare una particolare attenzione, individuare e catalogare le problematiche, le criticità e poi cercare di trasformare queste in un'azione di governo per poter dare risposte che sono risposte che comunque riguardano oltre un milione di toscani che in queste realtà più periferiche e più disagiate comunque abitano. Ho letto sulla stampa la richiesta di aiuto che è venuta dal primo rettore della Fraternita dell'Aici che è l'istituzione pubblica tra le più antiche di Arezzo e quel crido di aiuto che viene appunto dall'esigenza di recuperare i volumi e gli edifici delle Fienile ma anche del antico casolare Leopoldino di Poggiale nel comune di Castiglion-Fibocchi. Una esigenza che è stata manifestata sulla stampa perché c'è un progetto di recupero ma dei costi particolarmente onerosi. Quello che noi vogliamo è far sì che la Regione Toscana prenda in seria considerazione l'esigenza di recuperare quegli edifici. È un momento particolare della nostra vita, la vita è bella, quello è il Fienile del film La vita è bella e questo è un messaggio da dare in questo momento così difficile proprio perché nel momento della pandemia bisogna dimostrare di essere concretamente capaci di rilanciare anche i valori di quella civiltà contadina che sono il lavoro, il culto della tradizione. Tutto questo è particolarmente importante per la provincia di Arezzo ma direi per tutta la Toscana. Abbiamo presentato una mozione su Podere Rota come Fratelli d'Italia. È stata assegnata alla quarta commissione per dargli un giudizio e un compimento. Onestamente era stato deciso che Podere Rota venisse chiuso entro il 31 dicembre del 2021. A un certo punto sono state cambiate le carte in tavola e adesso si chiede addirittura l'ampliamento. La provincia di Arezzo è autonoma per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Ogni provincia si deve rendere autonoma e indipendente. si devono fare gli investimenti moderni e attuali che esistono e far diventare i rifiuti non un problema ma una risorsa. Credo che la provincia di Arezzo sia stata fin troppo generosa nei confronti della provincia di Firenze che smaltisce circa due terzi della propria immondizia nella nostra provincia. Quindi chiediamo fortemente che la discarica di Podere Rota venga chiusa. I cittadini non la vogliono. Crea dei grandi problemi di odori, di inquinamento e di avvelenamento. Quindi crediamo che sia davvero l'ora di farla finita. Ed è tutto. Questa era la nostra ultima intervista. A cronache e commenti torna la prossima settimana. Grazie a tutti.